Con qualche ritardo, ma la decisione di chiudere le discoteche a livello nazionale, come anch'io avevo chiesto, e di mettere l'obbligo della mascherina che da noi in Toscana senza limiti temporali era già introdotto, è stata giustamente presa. La prima preoccupazione deve essere la ripresa dell'anno scolastico per evitare quella catastrofe generazionale di cui parla l'ONU. Così il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, commenta la decisione del governo di chiudere le discoteche per limitare il contagio da coronavirus. Per Rossi, tutte le misure e provvedimenti che verranno presi con i possibili conseguenti sacrifici dovranno essere finalizzati a consentire ai nostri ragazzi di tornare in classe. Ma se non ci saranno i controlli da parte delle forze dell'ordine, c'è il rischio che tutto resti a livello di buone intenzioni. Infine, una post scrittum, Salvini dichiara invece che è una follia che il governo se la prenda con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire? Impossibile, risponde Rossi, commentare in modo civile. A proposito del leader della Lega, nelle scorse ore era la versiliana con Susanna Ceccardi e non ha mancato di commentare con dure critiche il governo. Il problema siano gli italiani, i ragazzi, i baristi, i ristoratori, i lavoratori, i giovani, gli anziani col cagnolino, è surreale. Questo è un governo che non è capace di difendere i confini, la salute e i risparmi degli italiani e se la prende con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire, è una follia. Il mercato del divertimento, il fatturato del divertimento a livello annuo in Italia si stima su 4 miliardi, un miliardo di questo è dato al gettito e quindi credo che un provvedimento di questo tipo sia importante, soprattutto sulla ricaduta che avrà sui dipendenti, sull'indotto del settore del divertimento. Però prima di chiudere interamente un settore io ci avrei pensato due volte.